Oltre 17 milioni di euro in banconote da 50, tutti falsi, è quanto ha scoperto la guardia di finanza di Marcianise. In manette con l'accusa di falsificazione di moneta, spendita e introduzione nello stato di monete falsificate, un uomo di origine campane senza precedenti penali. Le banconote sono risultate di ottima fattura e pronte per essere immesse sul mercato. Nel corso di un servizio di controllo i finanziari hanno notato un uomo che all'interno di un parcheggio di un noto centro commerciale del comune di Marcianise trasbordava freneticamente sul proprio furgone alcuni contenitori da un veicolo di una società di spedizioni attiva sul territorio nazionale. I militari hanno deciso di intervenire e di procedere al controllo del veicolo. Durante l'ispezione del furgone i militari sono rimasti increduli alla vista dell'enorme quantitativo di banconote rinvenute, confezionate in ben 15 colli occultati da un carico di copertura costituito da materiale di cancelleria.